Siamo ad Alba, queste sono le finali regionali del campionato Join the Game che avrà una fase poi nazionale. Queste finali regionali sono le squadre meglio classificate nelle province piemontesi. Oggi pomeriggio ci sarà la seconda fase con l'Under 13 più piccolini, questa di oggi l'Under 14, sono i ragazzi nati nel 97. Di là nell'altro palazzetto dello sport di Alba invece stanno giocando le ragazzine. Oggi le prime classificate parteciperanno poi alla fase nazionale e saranno le migliori classificate delle varie regioni. Non vedete oggi allenatori perché i ragazzi si autogestiscono, giocano in 4, di cui 3 in campo e 1 in riserva, scegliendo loro il momento in cui far entrare il loro compagno e giocando autonomamente, senza allenatori, senza nulla. È proprio la festa dei ragazzi. Grazie! 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 Grazie!